buono buono ce l'ho lo so ok non è vero ma un uomo bravo c'è la mia potenza mamma mia la mia potenza signori grazie ma un uomo passala 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 aia mamma mia mamma mia signori mamma mia mamma mia che passaggio aia mamma mia signori mamma mia signori ma che pro che sia siamo tutti i pro ma mia alfa un pro modo ma dai il passaggino all'aria io l'ho fatto non è un'altra cosa ma non è un montaggio non lo faceva guarda io 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 la palla avete preso la palla cosa vuole questo qua dietro di me che mi vuole fare intervento è un uomo passava finalmente c'è guarda quando la mia pace guarda qua mamma mia signori ma sono dei fai ho fatto cacchino a merda è venuto è venuto vai uomo sono in quanto sono putente mamma mia per carcere però va bene va bene questi sono dettagli dettagli sono dettagli perché devo caricare bene devo caricare mamma mia ho cagato cazzo adesso devo mettere il paese e non faccio l'altro non ci devi clicchare a uno che si chiama Iatri va bene? che devono uscire da tutte le parti anche il culo da tutte tutte ma cosa è successo? vai blu finalmente mamma mia 850 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 ho fatto a capitario vai Uomo la puoi fare Uomo vai mamma mia Uomo Uomo non me la devi passare perchè questa non ci vuole da prendere ma qui non so se ridere o piangi o piangerò incazzarmi ma sei incazzarmi non so se ne ando a casa sui si staccano tutti i denti forti come te nera ci tecma di nero sono una f*****a la chiude pure è bello suca suca la chiude pure la chiude pure la palla la chiude pure ecco suca mo divento flash mo divento mo devo fa flash ca se no 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 siiiiiii soccaamente tanto godo ma no qua che godule mamma mia mamma mia cioè guarda qua abbiamo pure accappottato il bello ma poi io tiro da lontano io tiro da lontano Grazie a tutti.